Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Da oggi il capolinea delle linee 62 e 168 alla stazione Tiburtina è spostato a via Guido Mazzoni a fianco del capolinea delle linee Cotral. Inoltre le due linee 62 e 168 non effettuano più una fermata via della Lega Lombarda, due a via delle province e due a via Tiburtina. Per la 168 che collega la stazione Tiburtina con Largo Maresciallo Diaz è prevista anche l'estensione dell'orario di servizio. La linea ora è attiva dalle 5.30 alle 23.30 dal lunedì al sabato.